Il parma d'esbole in campo con Nicola Carmela esterno destro, Michele Geragli esterno centro, Manu in piazza esterno sinistro, l'interbase Charly Mirabal, terza base Mario Martinez, seconda base Davide Benetti, prima base Lorenzo Cadari, vicende Alessandro De Otto, sul monte di lancio con il numero 50, José Sanchez. Per il lancio della prima palla della serata, accompagnato sul monte dal nostro neopresidente Paolo Zbogar, abbiamo il grande piacere di avere con noi l'allenatore del Parma Calcio, che ha conquistato, terminato il battuto del campionato, la promozione per la prossima stagione in Lega Pro, Cigi Abolloni! Applausi Applausi Attrofe Il pallone va bene, ma... No Ti spesso il tirare, dove c'è quel tirare? Di lui! Beh allora, Cioè è un via o posso tirare all'allora? Vai tranquillo, vai! Allo strike per Gigi Abolloni E' stato emozionante L'ho lanciato malissimo Era un po' Perfetto